ebbene si ragazzi ecco qua il nostro mostro nel nostro garage e si andiamo a passo già passo già con il nostro morini siamo pronti siamo pronti abbiamo l'attrezzatura si abbiamo tutto il ruoto sono ok il motore ok ma se siamo tutti ok abbiamo anche mantellina antifreddo passo ciao wow wow mi raccomando iscrivetevi e qui c'è anche sabonino questo cosiddetto un saltino e oggi siamo stiamo andando a passeggiare vabbè comunque siamo su un ristorantino un benzinaio una cosa del genere e siamo in Pumbo India ciao ragazzi sorpresa sorpresa vi ho portato a passeggiare ma non in moto ma in macchina perché abbiamo cambiato idea perché pioveva e quindi perché non venire in macchina ne abbiamo approfittato qui c'è Sabrina che sta facendo le foto perché gli piace molto la montagna quindi vi ho visto che passeggiare qua sopra nelle nostre teste qui c'è BMW Zeta 4 oggi abbiamo scelto il BMW Cabrio anche perché prevedevano un temporale tremendo siamo arrivati che c'è un solo bestiale c'è anche la musica sabina vuoi salutare sabina sta salutando come avevano detto che facevano pioggia temporale come vedete si può tenere un po' di macchina siamo arrivati a passeggiare ragazzi fino a qua ci siamo arrivati e magari ci rivediamo dopo alla prossima vi faccio vedere il monte sta diluviando dall'altra parte qui abbiamo passaggiato qui abbiamo passaggio e anche abbiamo passaggio e anche abbiamo una storia di di ecco nera Sabrina ecco 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 Grazie. 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 Grazie.